Buongiorno a tutti, benvenuti al telegiornale in diretta di UD News TV, primo appuntamento di giornata che apriamo tornando alla crisi di governo, a quello che è accaduto ieri in Senato e a quello che accadrà già da quest'oggi perché questa mattina alla Camera si svolgerà la riunione dei capigruppo con all'ordine del giorno comunicazioni del presidente Roberto Fico che annuncerà appunto l'apertura della crisi e la sospensione dell'attività legislativa. Inoltre cominceranno oggi alle 16 le consultazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dovrebbero salire per primi i presidenti del Senato e della Camera. E a proposito della crisi di governo e delle reazioni in Regione ci colleghiamo subito in esterna perché oggi era prevista la visita del presidente della Regione Massimiliano Fedriga all'interno della Dacia Arena. C'è per noi Davide Zanirato che vedo proprio in compagnia del presidente della Regione. Evidentemente insomma il tema del giorno è proprio quello che succederà da qui in poi in Italia. Buongiorno Davide, buongiorno al presidente. Buongiorno a te Valentina e i nostri telespettatori. Si è appena sceso dalla sua macchina il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Con lui ci sono gli assessori Bini e Gibelli assieme al direttore di promotorismo FWG Gomiero. Saranno qui quest'oggi ospiti della Dacia Arena della struttura e della società bianconera per dare anche l'augurio di un buon inizio di stagione ai bianconeri che proprio domenica esordiranno contro il Milan. Ma naturalmente governatore prima di venire al cuore di questa visita una battuta inevitabile su quanto sta accadendo a Roma all'indomani proprio delle dichiarazioni del Premier Conte, le sue dimissioni, questa crisi che si è aperta ufficialmente. Mi sembra inevitabile che dopo una serie di mesi, io penso dalla campagna elettorale dell'Europa in poi, una parte di governo, quella maggioritaria, il Movimento 5 Stelle, ha iniziato la stagione dei distingue e dei no. Finché si traducevano soltanto in offese verso Salvini abbiamo sopportato in silenzio e non rispondendo. Quando è stramutato nel no per il paese, che vuol dire far danno agli italiani, abbiamo scelto di togliere la fiducia al governo, noi ospichiamo ridare la parola ai cittadini. Se si facessero altre scelte sarebbe semplicemente una svendita per le poltrone contro un basilare principio di democrazia che siano i cittadini a scegliere le maggioranze. Il Movimento 5 Stelle si è presentato come il cambiamento rispetto a chi c'era prima, ovvero il PD. Sembrerebbe surreale che si mettesse invece a fare il governo con chi voleva cambiare. Sarebbe semplicemente una difesa delle loro posizioni, ma penso sia un'offesa agli italiani. Proprio oggi inizieranno nel pomeriggio le consultazioni del Presidente della Repubblica a Mattarella, quindi come Lega che cosa andrete a chiedere oltre naturalmente al voto e c'è anche l'ipotesi solo di per esempio votare il taglio dei parlamentari, era stata una delle sue aperture di queste ultime ore. Sì, l'abbiamo fatto per togliere la scusa a PD e Movimento 5 Stelle dicendo dobbiamo fare il taglio dei parlamentari, facciamolo e andiamo al voto. Devo dire che cambia poco perché che faccia un nuovo governo vuol dire che il taglio sarà operativo fra 4 anni, se si va il voto il taglio sarà operativo fra 5 anni, non cambia nulla. Basti pensare che il no alla TAV dei 5 Stelle costava 2 miliardi di euro. Fortunatamente l'abbiamo evitato con il nostro voto, grazie al nostro voto il 5 Stelle ha votato contro il loro Presidente del Consiglio per dire no e adesso per un anno il taglio dei parlamentari vale 60 milioni, ci voglio dire servirebbero 30 anni per andare a coprire il loro no alla TAV. Quindi capite che è semplicemente una scusa del risparmio, noi il taglio dei parlamentari l'abbiamo votato tre volte, quindi siamo più che favorevoli a farlo. Detto questo non è che per il taglio dei parlamentari è la scusa per tenersi le poltrone, tagliamoli e poi andiamo a votare. Si aspettava questo duro attacco di Conte durante il suo discorso nei confronti di Salvini e della Lega? Beh devo dire che è emerso il fatto che il Presidente del Consiglio uscente non ha quella esperienza anche parlamentare, politica necessaria ed evidentemente l'esaltazione di fare il Presidente del Consiglio dal nulla l'ha portato anche a fare un discorso che oggettivamente molto poco istituzionale, dettato da probabilmente rancori, da astio e poi con una serie di banalità non da poco. Addirittura si è riuscito a prendere il merito delle cose volute dalla Lega e per le quali abbiamo dovuto battagliare, non è che sono stati per scontato. Penso allo sblocco a Cantieri, in cui il Movimento 5 Stelle era contrario, penso alla revisione della norma sugli appalti, sul codice degli appalti in cui il Movimento 5 Stelle, quindi il partito del Presidente del Consiglio era contrario, penso alle grandi opere in cui il Movimento 5 Stelle era contrario, ha parlato di autonomia che è stato bloccato fino ad oggi dal Movimento 5 Stelle, ha parlato di riforma del fisco che i 5 Stelle non volevano fare, capite quindi i motivi per cui abbiamo detto no? Perché non possiamo tenerci la poltrona e fare male al Paese, noi abbiamo messo a disposizione di fronte ai cittadini di questo Paese i posti di governo che avevamo e chiediamo la fiducia di nuovo al Paese se ci manderanno a votare per portare avanti questo programma che penso sia interesse di tutti. Allora grazie intanto al Presidente Massimiliano Fedriga. Siamo una cosa più piacevole, andiamo a vedere l'unico. Sì, sì, e noi naturalmente continueremo a seguire assieme al Presidente, alla delegazione regionale, la visita qui alla Dacia Arena e poi alle 12, 12.30 all'imboccalupo ai ragazzi di Mister Tudor, quindi naturalmente ti richiederemo la linea nel corso di queste nostre dirette. A te Valentina. Grazie Davide, grazie al Presidente Fedriga. Allora facciamo il punto su tutto quello che è successo fra ieri e oggi a Roma con le consultazioni che come abbiamo visto cominceranno questo pomeriggio alle 16 al Quirinale. Con una serie di dure accuse contro Salvini, Conte ha annunciato ieri la fine del governo e le sue dimissioni da Premier. Rifarei tutto, ha detto però in risposta il leader della Lega. Oggi alle 16 partono le consultazioni di Mattarella con i Presidenti delle due Camere. A seguire i big saranno chiamati a salire al colle nella giornata di domani. Il governo populista ha fallito, ora c'è da evitare l'aumento dell'IVA, afferma Renzi. E allora andiamo a sentire adesso quello che pensano i cittadini udinesi che abbiamo interpellato proprio sul merito al duro scontro che si è verificato ieri in Senato con l'attacco frontale di Conte e la risposta di Salvini e le dimissioni anche del Presidente del Consiglio. Conte forse si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, però ci si chiede in questi ultimi mesi come mai non lo aveva fatto prima. Adesso siamo aperti a qualsiasi possibilità. È molto nebulosa la situazione, ma soprattutto vedo che la gente è anche confusa. Conte ha usato parole durissime contro Salvini. Le poteva dire prima, non dopo, perché sono stati quattordici mesi assieme, quindi poteva dire benissimo prima. Rispetto alle aperture nelle ultime ore poi di Salvini, a ritiro anche della mozione di sfiduolo? Ha sbagliato, ha sbagliato, perché o dalle dimissioni o è un freschino anche lui. Le parole di Conte, lui si candida a fare il Premier di nuovo e avrà l'incarico adesso, vedrà. Il primo incarico sarà suo. C'è tanto da dire e poco, perché si sono già espressi abbastanza. Comunque quello che dà fastidio è vedere tutti gli insulti che si sono detti, a sproposito anche secondo me. Quindi adesso vediamo cosa succede. Perché a sproposito? A sproposito perché non penso che persone che siano a quel livello si debbano esprimere in quel modo, debbano avere un po' di autocontrollo e di rispetto. Tutti quanti sbagliano purtroppo, però Conte non mi è piaciuto di quello che ha detto, ha sbagliato tanto. Che cosa non le è piaciuto di più? Prima di tutto l'atteggiamento. E poi anche quello che, insomma, Conte è stato d'accordo fino all'altro ieri con Salvini e con Di Maio. E adesso si gira le spalle perché anche lui si trova su una situazione che non è favorevole né a lui né a Di Maio. Dunque, e poi sbaglia anche se va col PD, perché anche il PD ha fatto quello che ha fatto. Che idea si è fatta dunque della situazione? Io voglio le elezioni, voglio il voto e voglio Salvini. Vuole andare alle urne? Sì, anche se sono straniera sono d'accordo con lui che pensa. Uno dei punti caldi però è sempre anche il fattore immigratorio. Questo ha ragione, perché io sono straniera, però c'è gente che ha esagerato. Questi paroieri raccolti da Monica Nardini questa mattina in città. Adesso voltiamo pagina e passiamo alla cronaca perché durante la notte c'è stato un rocambolesco inseguimento di un ladro d'auto da parte dei carabinieri che sono stati anche speronati durante la fuga dall'uomo che alla fine ha ingaggiato una colluttazione prima di essere arrestato. Sentiamo. Furto d'auto con inseguimento da parte delle forze dell'ordine intorno alla mezzanotte in centro a Udine. Un 34enne di Manzano con precedenti per rapina e furto aggravato si è introdotto in un'abitazione in via Cussignacco e ha rubato l'auto che si trovava all'interno del coltile con le chiavi inserite nel cruscotto. Quando i proprietari si sono accorti di quello che stava succedendo era già troppo tardi e il ladro è riuscito a fuggire a bordo della loro auto. Immediata la richiesta di aiuto ai carabinieri che verso le due sono riusciti a rintracciare l'auto in piazza della Repubblica. Alla richiesta di stop il veicolo anziché fermarsi ha accelerato dando il via a un cambolesco in seguimento durante il quale si sono visti repentini cambi di direzione eppure uno speronamento all'auto dei militari che si era affiancata a quella del ladro. La fuga del delinquente si è arrestata in via a Spromonte. Il 34enne, resosi conto di aver imboccato un vicolo cieco, ha quindi abbandonato l'auto e ha tentato di scavalcare la recinzione dell'istituto Malignani. Quando i militari lo hanno raggiunto è nata una breve ma violenta collutazione durante la quale il malvivente ha pure cercato di sottrarre la pistola a uno dei carabinieri che sono rimasti leggermente feriti nello scontro. Il responsabile una volta neutralizzato è stato tratto in arresto per furto in abitazione, lesioni aggravate, resistenza pubblico ufficiale e furto aggravato e si trova ora nel carcere di via Spalato. Diversi gli incidenti di cui vi diamo conto. Il primo verso l'una di notte a Pozzuolo delle Friuli lungo la statale 353, le conducenti della vettura ha perso il controllo del mezzo, è finito capottato a bordo strada, sul posto il 118 i vigili del fuoco, il conducente era rimasto incastrato nell'abitacolo, è stato poi portato all'ospedale. Volo notturno anche per il 118 tra tramonti di sopra e di sotto per una motociclista che è uscito di strada in maniera autonoma, è rimasto ferito e poi questa mattina in città alle 6, intorno alle 6 tra via Palmanova a Udine e una laterale, due auto sono finite per scontrare, hanno finito per scontrarsi e anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco feriti non in maniera grave i conducenti. Poi è sempre a Udine questa mattina tra via Martignaco e Leonardo da Vinci intorno alle 8 e mezza un altro incidente con feriti e sempre intervenuti i vigili del fuoco e il pronto soccorso. Invece andando a Trieste l'operazione della polizia domenica notte è stato arrestato per rifiuto di fornire le proprie generalità oltraggio, resistenza e lesione pubblico ufficiale un cittadino dominicano nato nel 2001, intervenuto in via Settefontane per la segnalazione prevenuta la sala operativa di una violenta lite fra più persone all'esterno di un locale pubblico già chiuso. Gli operatori sono stati accolti con fare minaccioso dal neomaggiorenne che li ha oltraggiati e minacciati. Si è rifiutato di fornire un documento e le generalità, ha dato in escandescente, in escandescenza e poi si è anche scagliato contro gli agenti. Uno ha rimediato un pugno, l'altro uno spintone. L'uso dello spray al peperoncino ha consentito di bloccarlo e accompagnarlo in questura e poi è stato arrestato e portato in carcere. E sempre la polizia di Trieste ha denunciato anche un cittadino italiano del 65 perché si è reso responsabile del lancio di alcuni bicchieri di vetro dalla sua finestra e anche un contestuale danneggiamento di una vettura parcheggiata sulla pubblica via. Andiamo adesso a vedere la situazione in autostrada perché ci sono alcune code da registrare, lo vedete nell'immagine con il link di info e viaggiando da Porpetto fino a Palmanova, traffico rallentato, traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Bivio a 4 e a 23 in direzione di Trieste. Anche prima in precedenza c'era qualche rallentamento a causa di un mezzo in panne che evidentemente è stato spostato e quindi la circolazione è stata ripristinata tranquillamente. Tre anni fa a partire dalla notte del 24 agosto del 2016 è iniziata una scia di eventi sismici che ha seminato morte e distruzione intere aree dell'Appennino dell'Italia centrale. Le vittime accertate saranno più di 300 con tanti danni agli edifici pubblici, alle imprese, alle vie di comunicazione e ai beni culturali della zona. Facciamo il punto sulla ricostruzione nelle zone colpite dal sismo dell'Appennino. La ricostruzione al momento è un miraggio e le macerie sono ancora lì a ricordare una tragedia iniziata tre anni fa quando la notte del 24 agosto 2016 la terra tremò violentemente per la prima volta portando morte e distruzione nel centro Italia. Ma per i borghi dell'Appennino umbro-marchigiano il peggio sarebbe dovuto ancora arrivare. L'ennesimo viaggio nel post-sisma questa volta inizia dal versante marchigiano da Castel Sant'Angelo sul Nera per arrivare fino a Castelluccio di Norcia approfittando della riapertura momentanea della strada che collega i due paesi o di quel che ne rimane. Maria Brignardello è un architetto che tornò a vivere a Castel Sant'Angelo una decina di anni fa e ha deciso di rimanere malgrado tutto. Più che una residente si definisce una resistente e spiega il senso della scelta di restare. Cerchiamo di non andare via perché altrimenti questi posti abbandonati non verranno mai più ricostruiti. Le persone più anziane temono di non vedere più ricostruite le proprie case come Franco Brizzi, 81 anni, che ancora serve caffè dietro il bancone del suo bar. Qui dobbiamo stare vent'anni se basta se non venticinque. Io non me lo ricorderò ovviamente perché ho 81 anni non me lo ricordo ma neanche le casette resisteranno tanto tempo. Il gestore del bar tra i tanti problemi che sottolinea solleva anche quello dei giornali che qui non arrivano più. Dato che siamo dell'ANSA io voglio precisare come ho sempre precisato con altri che noi qui a Castel Sant'Angelo, visto, non abbiamo ancora i quotidiani né le riviste, niente, niente giornali. Problemi che si sommano. Intanto chi ritorna a Castel Sant'Angelo è assalito da un senso di sgomento come Alessandra che racconta l'effetto che le fa vedere il paese così ridotto. Brutto, sto male perché ci sono cresciuta qui, ci sono i miei ricordi di infanzia, i ricordi di miei nonni, i miei genitori, i miei bisnonni ed è bruttissimo. Sto male, mi si stringe proprio il cuore, anche perché il mio cuore sta qui a Castello. Per l'estate è stata riaperta la strada che da Castel Sant'Angelo porta a Castelluccio. La perla dei Sibillini è invasa dai viaggiatori, ma i problemi sono sempre gli stessi. Niente ricostruzione e tante macerie. Gianni Coccia, fotografo il momento, e spiega cosa è rimasto di questo borgo. È rimasto veramente poco. Tutti i paesani, tutti quelli che comunque l'estate facevano ritorno a Castelluccio, quest'anno abbiamo notato che per Ferragosto c'è stato uno spopolamento di almeno il 90% degli abitanti che venivano durante il periodo estivo. È triste vedere che la gente che comunque aveva un legame con questo territorio non torna più. Questo purtroppo è causato dal fatto delle abitazioni che ancora non c'è un piano, un indirizzo, un qualcosa per poter rimettere in moto il meccanismo della ricostruzione e quindi di giorno in giorno la speranza va sempre più a sparire. E chi pone con forza di nuovo l'accento sui tempi biblici per la ricostruzione è Amerigo Coccia, vicepresidente della Proloco. Non tre anni come stanno adesso, però ci vorranno un minimo, io non lo ricorderò, per ricostruire la mia casa se la buttano più per forza, 20 anni e fra 20 anni tutti i proprietari che adesso in massa diciamo è la seconda casa, saremmo tutti annati da quella parte là che c'è un cimitero più vicino. E teme che il paese possa finire in mani straniere. Ha speranza che questo paese venga ricostruito? Io la speranza c'è, però non la ricorderò per quanto è fatto. Li faranno questa periferia attorno, ma il centro storico andrà in mano a un gruppo arabo-ginese che ci farà un grande castello. Sicuramente non ricostruiranno perché non ci sarà più chi ti dice ricostruirci. Chiudiamo la pagina di cronaca, ritorniamo in regione, ritorniamo anche alla trasmissione di ieri sera dedicata a Marina e Giulia, Audinews on the beach, si è parlato anche di gestione ambientale dell'arenile, insieme al sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint si è fatto il punto sullo smaltimento del materiale che si deposita in spiaggia. Abbiamo visto proprio anche il litorale, volevo chiedere una curiosità, con il fatto di avere la foce dell'Isonzo e anche con magari le mareggiate che ci sono, com'è la situazione poi della spiaggia e degli arenini? Abbiamo conosciuto anche nel corso delle altre puntate di Audinews on the beach, uno dei progetti innovativi di grado che per quanto riguarda le alghe ha sviluppato una propria iniziativa, voi come vi muovete in questo senso? Ma guardi, noi crediamo moltissimo che ci debba essere un'area pulita a beneficio del bagnante e quindi abbiamo una convenzione con i concessionari e per la parte libera, come si diceva, la gestiamo direttamente di pulizia, di raccolta e poi di smaltimento delle alghe. Durante la stagione estiva questa pulizia viene fatta quotidianamente, viene fatta la mattina molto presto perché ci sono dei mezzi che devono muoversi ovviamente sulla spiaggia e poi ci sono dei cassoni che sostanzialmente raccolgono per lo smaltimento. Quindi abbiamo un numero, diciamo una quantità di alghe abbastanza importante che non è sicuramente quella di grado, però che è gestita benissimo e devo dire, guardi, anche con costi che non sono assolutamente, come dire, da far tremare i polsi. Lo gestiamo e la spiaggia è pulita e di conseguenza per noi l'accantonamento e con l'idea delle fanerogame che hanno avuto a grado io non la sposo. Assolutamente noi abbiamo un progetto europeo che invece ragiona su un altro principio e che stimolerà la rinascita, la crescita delle fanerogame che però tratta altre modalità. Invece sulle alghe preferiamo che ci sia, anche perché vede l'alga che viene depositata poi nei giorni, come dire, offre anche un odore che non è così tanto piacevole. Noi preferiamo che vengano asportate e poi smaltite. Questo allora è il progetto del Comune di Monfalcone. Torneremo fra poco a parlare di turismo perché andremo di nuovo in esterna con i nostri collegamenti insieme a Davide Zanirato che sta seguendo l'incontro con il governatore Fedriga e i vertici di promo turismo allo stadio. Ma spostiamoci adesso sul campo perché è già pronto da qualche minuto Maurizio Ferrari che sta seguendo l'allenamento dell'Udinese. Buongiorno e ben ritrovato Maurizio. Buongiorno Valentina, siamo qui fuori già da qualche minuto come dici tu perché l'allenamento è cominciato intorno alle 10. Questa mattina allenamento di ripresa dopo il giorno di riposo nella settimana che conduce al Milan. Le notizie e le immagini che vi mostriamo sono quelle del ritorno di Giuseppe Pezzella in gruppo e quelle le prime di Ken Sema nei campi del Dino Bruseschi in attesa dell'ufficializzazione del laterale e sinistro del Watford primo allenamento insieme al resto dei compagni e dunque quella emergenza sulla fascia mancina che aveva costretto Nacio Pussetto a disimpegnarsi proprio sul out sinistro è da considerare terminata visto che sono rientrati a disposizione di Mr. Igor Tudor due laterali. Allenamento che alle mie spalle poco fa avete visto partire un cross da parte di Nicolás Sopocu squadra che si sta facendo fruttare quello che è stato elaborato fino a poco fa con due squadre distinte che si sono sfidate in possessi palla e senza i portieri adesso invece ci sono delle produzioni offensive senza avversari con soprattutto la richiesta da parte di Mr. Igor Tudor di andare a segno con i cross dalle corsie. La notizia più interessante però al di là di quello che è il racconto dell'allenamento è proprio il fatto che grazie all'approdo dell'esterno svedese che può fare sia la fascia sinistra che quella destra ma in questo caso chiaramente gli viene richiesta quella mancina considerando che è lì che ha bisogno il tecnico croato ha di nuovo due alternative sulle fasce. L'avete capito dal fatto che vi ho raccontato che è stato Nicolás Sopocu a calciare il pallone che si stanno provando a strugere o poco sulla corsia di destra dall'altra parte Pezzellessema quindi ha due giocatori per reparto da capire chiaramente anche le condizioni di Kensema che comunque è andato in panchina nella prima giornata della Premier League con il Watford e dunque ci immaginiamo che sia già condizionato anche per scendere in campo è chiaro che deve entrare negli schemi della formazione bianconera ed è anche altrettanto chiaro che poi c'è una barriera linguistica da superare tutti i temi che dovrà valutare Igor Tudor nella stesura dell'11 anti Milan comincia da oggi il percorso di avvicinamento al primo sold out della stagione sarà una partita molto calda che il tecnico potrà affrontare però anche con qualche pedina in più nel suo arco rispetto alla sfida con il Sutirol. Per il momento Valentina se non hai altre considerazioni la linea torna a te e ci rivediamo nel collegamento delle 12. Perfetto Maurizio ci risentiamo fra poco adesso ci spostiamo solo di qualche metro dall'esterno dei campi del Bruseschi all'interno della Dacia Arena dove c'è ancora per noi David Zanirato Ben ritrovato David Ben ritrovata te Valentina Si è in corso la riunione tra i vertici dell'Udinese Calcio con in testa il direttore generale Franco Collavino e i responsabili dell'area marketing assieme al governatore della regione Massimiliano Fedriga gli assessori Bini e Gibelli oltre al direttore generale di Promoturismo FWG Lucio Gomiero e proprio a Gomiero abbiamo chiesto poco prima dell'inizio della riunione il senso di questa visita, di questo incontro per rilanciare, per rafforzare questo accordo stretto proprio tra Udinese Calcio e Promoturismo FWG per valorizzare l'immagine della nostra regione attraverso la squadra e il gioiello della Dacia Arena allora andiamo ad ascoltare proprio le parole di Gomiero Lucio Gomiero, direttore generale di Promoturismo FWG oggi ospite della Dacia Arena un incontro con la società per rafforzare questo brand ambassador questo accordo che avete fatto lo scorso dicembre Sì, noi siamo reduci da una positiva esperienza dello scorso anno abbiamo anche identificato quelle che sono state le esperienze di successo anche quelle un po' più difficoltose che abbiamo avuto l'anno scorso abbiamo lavorato molto bene con i due team il team dell'Udinese e il team di Promoturismo e adesso anche quest'anno vorremmo identificare magari con qualche novità ancora dare continuità a questo fronte di collaborazione sicuramente l'Udinese, il brand Udinese è un brand che interessa che può promozionare molto il nostro territorio Avete fatto diverse iniziative in questo periodo dalle pubblicità per quanto riguarda anche gli allestimenti della Dacia Arena gli incontri proprio sul campo, le visite per questo gioiello immediato da tutta Europa c'è già qualche piccola anticipazione sul futuro? Vediamo questa riunione però sicuramente l'esperienza di successo cercheremo di continuarla la visita allo stadio è stata quella che è stato più successo abbiamo portato diversi spettatori a vivere l'esperienza dello stadio anche nell'occasione degli europei questa è stata l'esperienza che oggi ancora continua abbiamo avuto anche un buon riscontro da quelle state le iniziative che abbiamo svolto a Milano e a Roma insieme cercheremo di identificare qualche magari novità ecco questo sì, vediamo un po' questa riunione poi vedremo sul campo ecco Queste dunque le parole di Lucio Gomiero e naturalmente noi rimarremo qui Valentina a continuare a seguire questa visita che prevedrà poi attorno alle 12, 12.30 l'incontro proprio con la squadra bianconera con il tecnico Tudor e il suo staff e allora lì andremo anche a chiedere magari qualche curiosità calcistica al governatore della regione ai suoi assessori appuntamento dunque nell'edizione delle 12 a te la linea Grazie David, ci vediamo più tardi adesso noi chiudiamo questa pagina invece avremo quella nazionale e internazionale e diamo lo sguardo a tutto quello che è successo quest'oggi sono sbarcati a Lampedusa i migranti che erano da 19 giorni a bordo della Open Arms dopo che la procura di Agrigento ha disposto il sequestro e l'evacuazione immediata della nave aperto anche un fascicolo a carico di ignoti per omissione e rifiuto di atti d'ufficio probabilmente mi arriverà una denuncia ma io non mollo ha detto Salvini Jeffrey Epstein firma un testamento due giorni prima di togliersi la vita indicando come suo unico erede il fratello Mark è questa una delle ultime rivelazioni su un caso che continua ad appassionare e anche a scioccare l'America il documento con le sue ultime volontà è datato 8 agosto 2019 ed è stato depositato a St. Thomas nelle Virgin Islands statunitensi ovvero l'arcipelago dove il finanziere impiccatosi in cella la mattina del 10 agosto possedeva due isole private secondo quanto riporta il New York Post è un testo standard di 21 pagine che prevede di versare tutto ad un fondo fiduciario chiamato nelle carte The 1953 l'anno di nascita del finanziere l'unico erede indicato è dunque il fratello Mark Epstein anche lui investitore ed una volta socio di Jeffrey e dalle carte emerge come il patrimonio a molti ad oltre 577 milioni di dollari gli Stati Uniti lanciano la sfida a Russia e a Cina con il primo test missilistico da oltre 30 anni era d'altronde solo questione di tempo dopo che Donald Trump e Vladimir Putin avevano deciso di stracciare il trattato sui missili a raggio intermedio la INF firmato nel 1987 da Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev quello che limitava l'uso di armi nucleari e convenzionali ponendo di fatto fine una volta per tutte alla guerra fredda ora il rischio di una nuova corsa agli armamenti diventa reale con un salto indietro nel tempo che però stavolta vede tra i protagonisti anche il gigante asiatico a dare l'annuncio del lancio è stato il Pentagono spiegando che il test nel quale il missile ha colpito un bersaglio a 500 km di distanza è avvenuto con una testata convenzionale partita dalla remota isola di San Nicolas a largo della California l'operazione è pienamente riuscita e non si esclude che a breve ne possano seguire delle altre l'ira di Mosca che accusa Washington di irresponsabilità non si è fatta attendere il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peshkov, ha affermato che il lancio del missile da crociera dalle acque della California è la dimostrazione di come gli Stati Uniti già da tempo si preparassero a lasciare lo storico accordo e ancora più duro è il vice ministro degli esteri di Mosca, Sergei Ryabkov gli USA hanno chiaramente imboccato un percorso di escalation della tensione militare ma non reagiremo alle provocazioni chiudiamo qui questa edizione del telegiornale ma ritorniamo fra poco fra poco più di mezz'ora con una nuova edizione in diretta